ANSA, Roma, 19-9, non ho un giudizio perentorio, però mi convince la tesi secondo cui la mafia non si ricostituirà più con una struttura gerarchica, con il capo dei capi. Lo ha detto il ministro della giustizia Andrea Orlando all'intervista di Maria Latella in onda su Sky. Orlando ha giunto di ritenere che alla strategia della Minesi adottata da Cosa Nostra sia funzionale una mafia senza una commissione centrale, e che in qualche modo si spalma sul territorio. Il ministro non esclude nemmeno un cambiamento radicale. La mafia ha avuto in passato come capo un medico, come riferimenti dei professionisti e ora questo fenomeno è diventato sempre più forte. Potrebbe cambiare e trovare come punti di riferimento persone che non sono più siciliane, né calabresi né campane. Quanto ai link postati su Facebook alla foto pubblicata dalla figlia di Riina, Orlando ha osservato. C'è un mondo che guarda con reverenza a una figura come Riina, purtroppo questo mondo sopravvive.